I ministeri stanno a Roma come in Germania stanno a Berlino e come in Francia stanno a Parigi. È talmente evidente che non dovremo neanche perdere tempo con una crisi come c'è, economica, nuove spese, nuove buffonate. Io sono dell'opposizione, qua gli amici votano per i partiti di maggioranza, però dialoghiamo. Sono qui a firmare la petizione che proviene da amici che stanno nella maggioranza. Ma in questo caso dicono una cosa giusta e la cosa importante è sostenere sempre le cose giuste, indipendentemente da dove vengono fatte.